Buongiorno ragazzi, buon anno a tutti quanti e bentornati nel canale di Milviviendas. Quindi dopo le vacanze di Natale, dopo le vacanze di Capodanno, dopo essere ingrassati 3 kg e aver preso il Covid, siamo tornati in giro per Gran Canaria per vedere le proprietà, per farvele vedere a voi, a voi italiani che vi volete trasferire, affittare o comprare immobili in Gran Canaria. Vi ho portato adesso un'altra volta in un complesso che già conosciamo, che già vi ho fatto vedere in diverse occasioni, che è il complesso Green Sea di San Agustin. Entriamo a vedere un studio completamente ristrutturato che affittiamo per il periodo invernale. Entriamo a vedere com'è fatto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!